Per la TG Events Television con noi Dario Salvatore. Buongiorno, buongiorno a voi. Critico musicale, giornalista, scrittore, sei arrivato qua a Sanremo, città della musica in questo periodo e hai avuto sicuramente modo di ascoltare quindi i brani del festival. Sì, l'avevo già ascoltato a Roma quando l'hanno fatti ascoltare alla stampa, ma vedere l'interpretazione sul palco è tutta altra cosa, insomma, un conto è vedere, ascoltare un pdf, un conto è vedere quello che succede sul palco. Beh, certo, poi il palco di Sanremo forse reduce anche dal direttore artistico precedente Baglioni che ha dato un tocco musicale alla sala non indifferente che già all'epoca aveva detto che sarebbe stato innovativo per i prossimi anni, effettivamente è stato così. Amadeus ha ereditato questa musica, questa musica dal teatro che indubbiamente fa la sua scena. Lui è sicuramente un appassionato, viene dalla radiofonia, quindi il pedicrice è. Poi questo è un palco che ti può premiare, che ti può fare qualche sgambetto, ma questo lo vedremo già da domani come tira l'aria, insomma, no? Del resto poi c'è anche Fiorello pronto nel caso ci fosse qualcosa così di non funzionante. Ma io credo di no, perché in fondo è un festival non fortemente innovativo, ma secondo me mantenitivo. E questo già è qualcosa di rassicurante, forse è un momento che ci vuole rassicurazione. Ti sei già fatto un'idea sui papabili? Ma guarda, insomma, a me più che i cantautori o i rappers piacciono i musicisti, coloro i quali sanno interpretare, ma sanno anche suonare, sanno anche scrivere musica. Quindi non so, a me piace un Paolo Iannacci, piace un Gualazzi, che sono musicisti. Mi piace anche Gabbani, perché è uno che invece di arrampare il successo così improvviso che l'ha colpito due anni fa, lui ha fatto una pausa di riflessione, però forse l'ha fatta troppo lunga e oggi, diciamo, per il pubblico giovane è uno già da rilavorare in qualche modo, capito? Però io sarò convinto che a proposito del palco, come dicevamo, lui è uno che movimenterà il palco. Le trovate non possono essere le stesse, sappiamo a che cosa alludiamo, la scimmia è a fine, ma chi ha l'attitudine del palco ci riproverà. Bene, bene, allora staremo a vedere. Domani sera partirà la Kermes Sanremese più famosa al mondo, quindi staremo, staremo assolutamente a vedere. Quindi un in bocca al lupo. KG Events Television, persone e personaggi, Matteo, ciao qui a Sanremo. Cosa ci racconti di questo festival vissuto fino ad ora? Guarda, uno spettacolo, un sogno che sia vero, ho sfregato la lampada di Aladino ed eccomi qui. Quindi il palco dell'Ariston qua vicino a noi ti sta aspettando, mi raccomando. Noi ti facciamo un in bocca al lupo immenso. Grazie a te per portarci la tua musica. Grazie a voi per il vostro tempo, davvero, un abbraccione. La Sanremo per il momento, per la TG Events Television è tutto, in bocca al lupo a Matteo. Grazie, ciao. Un saluto a tutti gli amici di TG Events Television. Un bacio. Grande fede.